L'hai messa la maglia di lana? Sì, tranquilla. E il fazzoletto? Con quel viziaccio che hai di puliotti il naso nelle maniche l'hai preso? Ma certo. Però mangia, eh. Ascoltami, mamma, ti prego. No, 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 no. Ascolta tu piuttosto, perché lo so come sei fatto e non sono tranquilla. Per piacere. Non dare confidenza agli estranei, non parlare con chiunque. Cerchi di stare al tuo posto, va bene? Fammi stare tranquilla, eh. E non riesca a capire perché non hai preso l'aereo. Il treno è più sicuro. Più sicuro sarebbe stato stare vicino alla tua mamma. Comunque telefona, eh, quando arrivi. Va bene. Fai buon viaggio. Vaccino, 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 vaccino. Sì, grazie infinite, mamma. Ciao, tesoro. Ciao, mettiti, 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 mettiti prima io. Ciao. Gli uomini, gli uomini. E sono fragili, e sono deboli, e bisognosi di coccole. Noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare le mamme. Ok, però, mi piace.